Ciao ragazzi, siamo qui al castello di Veltroiuso per vedere i tesori del vintage, seguitevi. La stessa serie, delizioso. Sentiamo da lei su cosa ci consiglia per essere veramente updated. Consiglio un abito di Gucci, un abito di boutique degli anni 80. Questo ci consiglio invece per quelli che hanno un budget piccolo, però vogliono essere fashion. Fashion, consiglio sempre l'occhiale da sole, anni 80, intramontabile. Bene ragazzi, allora ricordatevi, Balevin Bologna www.balevin.it E con l'economico ci piace. Questo autunno-inverno in effetti cosa abbiamo? La pelliccia che è un must. E un visone femmina, quindi di ottima qualità, la trovate solamente a 120 anni. Abbiamo Nicoletta come ospite. Nicoletta ha una storia particolare, perché in realtà i pezzi che lei acquista e che trovate qui, li acquista da signore. Quindi sono capi sartoriali e io cerco sempre cose molto femminili e soprattutto portabili. Superfly, un negozio specialissimo di vintage che ha pezzi unici e originali per chi effettivamente uno stile ce l'ha già. Sono tutte cose rappresentative proprio del periodo Swing in London. Allora ragazzi, diciamoci questo. Tutte da Superfly. Sentiamo da Angelo quali sono i suggerimenti per questo autunno-inverno. Quest'anni 70 www.angelo.it Ciao!